Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi secondo recap della seconda giornata del D23, infatti ieri dalle 19 alle 22 si sono tenuti i panel dei Marvel Studios di Lucasfilm e di 20th Century e mentre ieri ho pubblicato il video del recap dei panel di Disney, Disney Pixar e Disney Animation, oggi tocca a questi tre panel. Vi anticipo che non arriverà un recap della terza giornata, questo perché al D23 da oggi parleranno solamente dei parchi tematici, quindi Disneyland e dei doppiatori americani. Quindi sono delle cose che soprattutto non sono annunci ma che comunque non interessano a noi fan italiani. Quindi telefono alla mano e vi informo che per archivio degli annunci e delle news userò il profilo Instagram Tickets for Nerd dove questa notte abbiamo pubblicato tantissimi post in tempo reale, tempo due secondi che dicevano qualcosa al D23, sul profilo si trovava già ed è per questo che vi invito a seguire quel profilo in primis per supportare il lavoro e in secondis per appunto rimanere aggiornati su tutto quello che concerne il mondo nerd in tempo reale. News, rumor, leak e tanto altro dal mondo nerd e dalla cultura pop. Prendete il vostro biglietto e godetevi queste cose. Trovate il link di Tickets for Nerd nelle schede e anche nella descrizione e in descrizione trovate anche il link di tutti gli altri miei social e il link di Pampling. Il codice del pensiero 4 è sempre compatibile con tutte le promo del sito e se volete qualche t-shirt vi informo che fino a mercoledì costano tutte 10 euro, poi ritorneranno a prezzo normale. Ma adesso iniziamo. Direi di partire dal panel di 20th century, anche se è stato l'ultimo presentato, però siccome ci sono pochissimi annunci e si è concentrato per lo più, anzi totalmente, su Avatar, direi di partire con quello. Infatti sul palco del D23 si è presentato James Cameron che ha confermato che le riprese del quarto film di Avatar sono già iniziate. Il quarto film. Non è ancora uscito il secondo, il quarto film già lo sta girando. Mentre il terzo film che arriverà fra due anni è già in post-produzione. E in realtà per gli annunci di Avatar finiamo qui perché poi al D23 sono state mostrate esclusivamente a porte chiuse 3 o 5 clip di Avatar la via dell'acqua per un totale comunque di 10 minuti. Naturalmente complimentoni a Cameron, 2 minuti di standing ovation, mago degli effettisti e poi hanno ovviamente dato gli occhiali 3D quindi hanno visto queste scene al 100% con pesci che arrivavano addosso agli spettatori. Non letteralmente, non c'era Cameron che buttava pesci sulle persone, però avete capito. Direi quindi di passare direttamente alla Lucasfilm iniziando a parlare di Andor perché infatti è stato il primo prodotto di cui hanno parlato in generale in questo panel, essendo stato quello di Lucasfilm il primo dalle 19, ed è stato confermato che le riprese della seconda stagione di Andor inizieranno a breve. Anche la seconda stagione conterà 12 episodi come la prima che arriverà su Disney Plus con i primi tre episodi il 21 settembre e la seconda, assieme alla prima con un totale di 24 episodi, chiuderanno appunto questa storia. La serie si ambienterà 5 anni prima di Rogue One a Star Wars Story e secondo quanto riferito dall'attore che interpreta Cassian Andor, ovvero Diego Luna, qui vedremo un personaggio diverso da quello che abbiamo conosciuto e che non ricollegheremo facilmente al personaggio di Rogue One. Diego Luna dice in questa serie amerete odiare Andor. Successivamente hanno mostrato il primo trailer e il primo poster di Willow, serie sequel dell'omonimo film degli anni 80, il trailer tra l'altro è stato rilasciato anche per noi a casa e la serie arriverà su Disney Plus dal 30 novembre. È stato anche confermato l'attore Christian Slater nel cast in un ruolo ancora non conosciuto. È stata poi confermata la data di uscita di Tales of the Jedi, una serie di sei corti animati in arrivo su Disney Plus il 26 ottobre, è stato rilasciato anche un trailer sui social e come anticipato mesi fa alla Star Wars Celebration la serie si dividerà in due. Tre episodi saranno dedicati alla piccola Soka, mentre altri tre saranno dedicati al giovane Dooku. Al D23 poi è stato mostrato un trailer della seconda stagione di The Bad Batch, la serie arriverà il 4 gennaio su Disney Plus, 4 gennaio 2023 naturalmente. Poi hanno parlato della serie live action di Skeleton Crew, nel cast c'è Jude Law, la serie diretta da John Watts, ed è stato confermato proprio da John Favreau che dopo aver lavorato con lui ai film di Spider-Man ha deciso di portarlo con sé nel mondo di Star Wars, raccomandazioni di un certo calibro nel mondo Disney, comunque a parte gli scherzi. È stata mostrata qualche immagine, non rilasciata ufficialmente, infatti ci sono solamente dei leak, e la serie si concentrerà su un gruppo di ragazzini, sarà una roba molto tinna alla Stranger Things, che si perderanno nella galassia lontana lontana. È stato poi rilasciato ufficialmente il primo trailer della terza stagione di The Mandalorian, che è quello che in realtà avevano già mostrato e che è stato leakato dalla Star Wars Celebration, e la serie arriverà in un generico 2023, non è stata confermata ancora la data di uscita. Per chiudere poi con l'evento di Lucasfilm, al D23 hanno mostrato un piccolo teaser di Indiana Jones, del quinto film di Indiana Jones, che a quanto pare non è confermato, si chiamerà semplicemente Indiana Jones, senza un sottotitolo, anche se qui si scherza molto sulla vecchiaia di Indiana Jones, con titoli come Indiana Jones e il catetere bucato, cose del genere. Tra l'altro Harrison Ford ha fatto una battuta alquanto macabra, mentre era sul palco, con tanto di intro di Indiana Jones, ha detto questa potrebbe essere l'ultima volta che mi vedete su un palco, riferendosi naturalmente alla sua vecchiaia e alla sua morte. Ok, comunque il film Indiana Jones arriverà nelle sale il 30 giugno 2023. Passiamo adesso al panel Marvel, ed è iniziato naturalmente con Wakanda Forever. Al D23 è stata mostrata una clip in esclusiva del film, in cui hanno visto M'Baku combattere contro Namor, ed è stata anche confermata la sinossi del film. L'intero mondo cercherà di rubare o comunque impossessarsi delle risorse del Wakanda in questo momento di debolezza, dopo appunto la morte del loro re T'Challa. Morte che naturalmente non era in programma nei Marvel Studios, ma è dovuta andare così dopo la scomparsa prematura di Chadwick Boseman nel 2020. È già passato davvero tanto. È stato poi mostrato un piccolo teaser esclusivo di Ironheart, tra l'altro c'è anche un nuovo logo che non è uscito ufficialmente, quindi questo è il leak. È stato confermato l'attore Anthony Ramos nel ruolo di The Hood nella serie, e nel piccolo teaser si vede semplicemente Riri, che costruisce la sua armatura con pezzi rubati, e per questo è nei guai. Poi, sempre al D23 hanno mostrato esclusivamente un piccolo trailer di Ant-Man and the Wasp Quentumania, il film arriverà il 23 febbraio 2023 in sala, naturalmente, e di questo piccolo trailer sappiamo che inizia in un modo e finisce in un altro. Prima sembra una comedia e a un certo punto diventa totalmente qualcosa di dark, con un Kang che, a detta di quelli che hanno visto il teaser, è spaventosissimo. Secondo quanto riferito dai Marvel Studios, in questo film Ant-Man si piegherà al volere di Kang per una rapina. Questo perché, a quanto pare, il villain ha tra le sue grinfie Cassie, la figlia di Scott. Quindi, per salvarla, Ant-Man cercherà di fare questa rapina per Kang. È stato infatti descritto come un iced movie, mentre Michelle Pfeiffer, che nel film interpreta Janet Van Dyne, l'ha descritto come il film più dark della trilogia di Ant-Man. Hanno poi parlato ufficialmente, proprio i Marvel Studios, di Werewolf by Night, mostrando il logo, è poi uscito anche un trailer per noi comuni mortali. Ho fatto anche la reaction, la trovate qui, nelle schede, trailer stupendo, secondo me. Lo speciale di Halloween arriverà il 7 ottobre su Disney+, non mi aspettavo davvero una data così vicina, mi aspettavo l'ottobre inoltrato. E niente, dopo questo video andate a vedere la reaction per sapere cosa ne penso più nel dettaglio. Oltre al trailer è uscito anche un poster, che è questo che state vedendo, e davvero di questo materiale promozionale mi piace tutto. È stato poi cambiato il logo di Armor Wars, e sinceramente preferisco questo a quello che era stato mostrato tempo fa, ed è stato confermato che sarà un sequel diretto di Secret Invasion. Secondo quanto riferito arriverà molto più in là, probabilmente nemmeno nel 2023. Visto che ho citato Secret Invasion, è stato mostrato un trailer sia al di 23, poi è stato rilasciato per tutti, anche di questo reaction qui. Al momento la serie però non ha un mese d'uscita, sappiamo solo l'anno, 2023. Sicuramente arriverà nella prima parte dell'anno. Poi una cosa che ha deluso un po' tutti, infatti al di 23, ma l'educazione a parte, hanno iniziato a fischiare, a inveire contro i Marvel Studios, non hanno parlato del cast di Fantastici 4, ma hanno solo confermato il regista, ovvero Matt Shackman, che in realtà era una cosa che sapevamo da settimane, visto che ne avevano parlato Insider e testate alquanto credibili. Quindi Matt Shackman, il regista dell'intera WandaVision, dirigerà il film dei Fantastici 4. Ma ancora non abbiamo nemmeno un cast. Probabilmente verrà annunciato al New York Comic Con, ma non andiamone così sicuri, visto che per molti ormai era una sicurezza che venisse annunciato in questo evento, e così non è stato. È stato poi mostrato un teaser di Echo privatamente, quindi non l'abbiamo visto, fortunatamente, per quanto mi riguarda, perché non me ne frega assolutamente nulla di Echo, e non me ne fregherà ancora di più dopo aver saputo che la serie avrà uno stile molto simile a Moon Knight, ne parlavano come una cosa buona. Nel teaser hanno semplicemente mostrato Maya Lopez combattere contro lo zio Kimpin, a cui manca un occhio. Visto che si parla di Kimpin, è stato cambiato il logo di Daredevil Born Again, le riprese non sono ancora iniziate, però ne hanno comunque parlato in qualche modo, tuttavia hanno mostrato una piccola clip da She-Hulk in cui compare Daredevil. E da quanto riferito, in questa clip sta per scappare un bacio tra Matt Marduk e Jennifer Walters. Questo dopo aver combattuto uno contro uno. Hanno poi parlato della seconda stagione di Loki, dicendo che le riprese stanno andando abbastanza bene, e che la serie sarà strettamente collegata alla multiverse saga, quindi prima o poi aspettatevi Loki di nuovo in qualche film. In questa seconda stagione il personaggio cercherà di convincere tutta la TVA, o comunque in generale tutti, della pericolosità di Kang. Vi ricordo che nel finale della prima stagione Kang è il fondatore appunto della TVA, la TVA in cui va a finire Loki, e quindi magari lo vedono a tutti gli effetti come un capo buono e no, non è così. Hanno poi mostrato un nuovo logo di Captain America New World Order, quarto film in cui il protagonista questa volta sarà Sam Wilson, l'ex Falcon, adesso Captain America, e sono state confermate un paio di cose. Nel film torneranno Isaiah Bradley, il super soldato nero che abbiamo visto in Falcon and the Winter Soldier, tornerà anche Joaquin Ramirez, ovvero il militare, a cui Sam Wilson regala l'armatura di Falcon da aggiustarsi, quindi sì, lui sarà Falcon. Tanto che è stato confermato come sidekick di Sam Wilson, prendendo il posto di Bucky, ne parleremo dopo. Nel film sarà presentata la supereroina israeliana Sabra, e una cosa che non mi sarei mai aspettato, soprattutto per Captain America New World Order, nel film tornerà il leader, il capo. Il personaggio che non vediamo dai tempi dell'Incredibile Hulk sarà interpretato ancora da Tim Blake Nelson, e non solo, sarà il villain principale del film. C'è chi dice che potrebbe comparire anche in She-Hulk, potrebbe essere lui a volere il sangue di She-Hulk appunto per fare esperimenti, ed è molto probabile sia lui, magari lo faranno vedere per qualche secondo per poi collegare la serie in qualche modo a Captain America. Ma passiamo a una delle ultime cose del D23, infatti è stata confermata parte della formazione dei Thunderbolts, che sarà l'ultimo film della fase 5, già ne parlano adesso. Sono stati confermati 7 membri su 9, almeno 9 dovrebbero essere. Nella formazione abbiamo Allegra della Fontaine, che abbiamo già visto in The Falcon and the Winter Soldier e Black Widow. Poi abbiamo Ghost, che abbiamo già visto in Antriman and the Wasp. Abbiamo Yelena Belova, che abbiamo visto in Hawkeye e Black Widow. Abbiamo Red Guardian, che abbiamo visto in Black Widow, e sono sinceramente felice di rivederlo in un'altra formazione. Abbiamo poi Bucky, che magari qui si farà chiamare White Wolf, ed ecco perché manca da Captain America, anche perché è stato confermato che Thunderbolts e Captain America si svolgeranno esattamente nello stesso momento. Abbiamo US Agent, che abbiamo visto già da The Falcon and the Winter Soldier, e infine Taskmaster, che abbiamo visto da Black Widow. Ne mancano almeno due, da quello che sappiamo. Potrebbero trattarsi tranquillamente di Abominio e Zemo, oppure qualche altro a sorpresa, per questo non l'hanno mostrato. Ultima cosa di cui hanno parlato, The Marvels, sequel di Captain Marvel, mostrando anche un piccolo teaser esclusivo al D23, in cui vediamo ufficialmente Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan combattere tutte e tre in costume. A quanto pare Monica Rambeau prenderà il nome di Phantom, e dopo gli eventi di WandaVision si scoprirà essere stata addestrata proprio da Nick Fury. Tanto che le tre ragazze verranno soprannominate le Fury's Angel. Non sono in hype per The Marvels, però sono curioso perché c'erano dei rumor abbastanza credibili che lo descrivevano come in parte un musical, perché ad un certo punto le tre supereroine sarebbero dovute andare in un pianeta in cui gli abitanti al posto di parlare cantano, e sono curioso di vedere che cosa faranno. Ma ragazzi, questi sono stati tutti gli annunci fatti ieri, nella seconda giornata del D23. Fatemi sapere con un commento qui sotto quale di questi prodotti attendete di più. Ci sono state alcune mancanze, mi sarei aspettato il cast dei Fantastici Quattro, invece non è stato così. Sì, mi sarei anche aspettato qualcosina per Deadpool 3, visto che il film è in fase di produzione avanzata, e a quanto per a questo punto penso di essere l'unico che si ricorda Kevin Feige al San Diego Comic con dire esplicitamente al D23 mostreremo il resto della fase 6. E no, non è stato così. Di nuovo hanno semplicemente mostrato solo Werewolf by Night, che non era confermato prima. E ragazzi, vi ricordo che in descrizione trovate il link di Tickets for Nerd, il profilo Instagram dove potrete rimanere aggiornati, su Rumor No News, Leak e tanto altro, dal mondo nerd, dalla cultura pop in tempo reale. Trovate anche gli altri miei social, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione assieme al link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd, dove in questo periodo tutte le t-shirt costano solo 10 euro, da mercoledì non sarà più così, quindi affrettatevi. Il mio codice è sempre compatibile con tutte le promo, infatti il Pensiero 4 vi darà la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel vostro carrello e queste calze vi costeranno 0 euro, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude, ciao!